2, 1, 2, via! Ed ecco che parte ancora! Grande azione! Scimola! Immobile! E riparte ancora! E riparte ancora De Rossi! De Rossi per la Roma! Punta il termine di Roma nella capitale! Dio! Parata! Applauso a questi bambini molto! Torniamo a quella posizione! Dai ancora voi! Dai, 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 col pallone! Vai, vai, vai! Qua voi al limite, ultimo step, poi cambiamo...